Riello e Brioni sono solo le ultime due vertenze in ordine di tempo che l'Abruzzo deve affrontare nel pieno della ripartenza dopo i mesi più bui della pandemia, posti di lavoro che rischiano di saltare spesso, troppo spesso, per decisioni di multinazionali che delocalizzano la produzione dove la mano d'opera costa meno e ha meno tutele. Una situazione che preoccupa i sindacati è che la Regione Abruzzo, con l'assessore Pietro Quaresimale, ha condensato in un dossier consegnato al Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti. Dalla Val Vibrata alla Val Pescara fino alla Denso e alla Pilkington, al Governo si chiede una tutela contro la desertificazione industriale. Lo fa con forza anche il segretario generale della CGL Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, preoccupato anche per il futuro di Sevel. Quindi è necessario innanzitutto che la Regione si doti di politiche industriali adeguate. Da un lato bisogna difendere l'occupazione e da questo punto di vista pretendere che il Governo nazionale affronti seriamente queste vertenze nel tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Dall'altro lato è necessario rendere il nostro territorio attrattivo e quindi da questo punto di vista la Regione dovrà spendere le tante risorse comunitarie che sono a disposizione. Preoccupa ciò che può succedere nel settore dell'automotive con Stellantis che avvierà dal 2022 la produzione nello stabilimento di Glyse in Polonia e quindi avremo un sistema comunque competitivo tra l'altro con un altro paese appunto la Polonia dove gli stipendi sono molto più bassi, non sono paragonabili a quelli italiani e dove non c'è quel sistema di welfare che abbiamo noi. Da questo punto di vista è anche necessario che l'Europa protegga quei paesi che hanno diritti, salario e che hanno adeguati livelli di welfare appunto come dicevo prima, la sanità, le pensioni e così via.